E' Don Gianni De Robertis dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, il nuovo direttore della Fondazione Migrantes, nominato dal Consiglio Permanente della CEI, riunito ieri in sessione straordinaria nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Don Gianni De Robertis succede a Monsignor Giancarlo Perego, nominato lo scorso 15 febbraio da Papa Francesco a guidare la diocesi di Ferrara-Comacchio. Vediamo. E' Don Gianni De Robertis, il nuovo direttore generale della Fondazione Migrantes, nominato dal Consiglio Permanente della CEI, riunito ieri in sessione straordinaria nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Don Gianni De Robertis sostituisce Monsignor Giancarlo Perego, chiamato lo scorso 15 febbraio da Papa Francesco a guidare la diocesi di Ferrara-Comacchio. Monsignor Perego era stato nominato direttore generale nel 2009. Il presidente della Fondazione Migrantes, Monsignor Guerino di Tora, ha ringraziato Monsignor Perego per il lavoro svolto con passione e incondizionata dedizione. Al nuovo direttore Don Gianni De Robertis sono andati poi gli auguri di Monsignor di Tora e di tutta la Migrantes, con l'auspicio di proseguire e sviluppare il lavoro fecondo di chi l'ha preceduto e con l'assicurazione che da quanti a vario titolo sono impegnati nella Migrantes avrà sempre la più ampia collaborazione. Don Gianni De Robertis, della diocesi di Bari-Bitonto, ordinato sacerdote il 16 aprile del 1983, ha conseguito la licenza in teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1988 ed è stato parroco a San Marcello, a Bari, dal 1993 fino ad oggi. Attualmente è direttore regionale Migrantes e direttore diocesano di Bari-Bitonto. Ringrazio i vescovi italiani ed in particolar modo Monsignor Giancarlo Perego che mi ha preceduto in questo servizio per la fiducia accordatami. Vivo questa chiamata come il rinnovarsi di quella domanda di Cristo che è risuonata nel Vangelo della mia ordinazione. Mi ami tu più di costoro? E del comando conseguente, pasci le mie pecorelle. L'affidamento di una porzione del suo greggio è questa volta fatto da migranti, sono le prime parole del neodirettore. La fondazione Migrantes aggiunge è sempre stata l'espressione di questo amore di Cristo e dei vescovi italiani verso questa porzione del greggio, spesso afflitta da tanti pericoli, come pecore senza pastore.